Siamo a un paio di giorni prima delle riprese, perciò se iniziamo con i momenti che oggi è, venerdì, e ho la febbre a 37. Gravissimo. E' ben dito. Hai skateboard! Allora, c'è il candonello che disegna, manca qualcosa. Non ci serviranno per fare tutte le scenerazioni, eccetera eccetera. Questa, pistola, e questa. Adesso non lo scaghi per sicurezza, per essere quasi pure. Ci sono state gentilmente sponsorizzate dall'Almeria Italiana Valenzio ad Archie, Viena Nazionale, 415. Una cvdA. No, tutto 0,48 sono più di potermela a me. Ok. Poi, un altro, un altro, altri gentili personaggi che ci hanno aiutato e sponsorizzato. Punta, fermo. Autocarrozzeria Bonanno. Ok. Ci fornisce le auto. Ci fornisce le auto, no. Che vero che stai facendo? Stai facendo, signore bene. Stai cancellando. Guarda così, da. Non li voglio cancellare tutti. Perché tu, secondo te, io ti salvo queste cose. No. Donne nude, però. Stiamo per registrare una voce meccanica. La voce che si sentirà, che sicuramente avrete visto nel... Lo vedono prima o dopo? Perché devi comprare un ukulele. Dopo. Dopo. Quindi la voce che avete visto nel tablet, quella là di... O, 2, open, 3, tipo che esce, 2, no, vabbè, prima. Prima, perché... Ok, la voce che... Sì, ti c'erano... Variate tutte le cose, sapete come finisce? Adesso è alla fine. Ciao. Ciao Viviana. Mi fa incazzare, ragazzi. Non trovo vicino. Vicinissimo. Cosa? Sei in pulizione. Sto scoppiando di caldo. Ti baciarono un sacco, ragazzi. Beh, se ci ripeto, ma ne hai avuto. Ma, o meno, ho il capo. Che dire è questo. Prova, 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 prova. No, no, così, dista. Sicuro che... Così. No, così è troppo vicino. Puttini nelle cuffie. Ma è ritardata la voce. Certo. Mi fa sballare. Non c'è un panamare, siamo. Può che non dirle no. È scarica. Salve agente. Salve agente. Salve agente. Non salve. Salve agente. Veramente, lol. Molgio è agente, qua street. Salve agente, quindi, senza parola. No, salve agente. Salve agente. Vale, guarda qua. La tua missione è trovarla e portare a termine la sua missione. Non hanno troppo funicità uguale. Ma magari il tuo compito è portarla, ma è una mia parola. Il tuo compito è trovarla e portare a termine la sua missione. Il tuo obiettivo è trovarla e portarla a termine la sua missione. Vai. Vai. Grazie a tutti.